quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, il Signore è con te. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Maria meditava nel suo cuore gli eventi meravigliosi del suo figlio. Uniti nella preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio che ha voluto Maria amata e venerata da tutte le generazioni. Diciamo con fiducia, Maria, piena di grazia, interceda per noi. Tu, che hai costituito Maria madre di misericordia, fa che sperimentiamo, in mezzo ai pericoli, la sua bontà materna. Hai voluto Maria madre di famiglia nella casa di Nazareth, fa che tutte le mamme custodiscano la santità e l'amore. Hai reso forte Maria ai piedi della croce e l'hai colmata di gioia nella risurrezione del tuo figlio. Sostienici fra le prove della vita e rafforzaci nella speranza. In Maria, attenta alla tua parola e serva fedele della tua volontà, ci mostri il modello e l'immagine della Santa Chiesa. Per sua intercessione, rendici veri discepoli del Cristo tuo figlio. Hai incoronato Maria, Regina del Cielo. Fa che i nostri fratelli defunti godano la felicità eterna nell'assemblea dei santi. Padre nostro, infondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della resurrezione. Per il nostro Signore. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen.